Il Comune di Teramo cerca di fare cassa e mette in vendita degli immobili, tra cui anche degli appartamenti in centro storico. Sì, nell'ottica della valorizzazione del patrimonio dell'ente, oggi viene pubblicato un bando in cui appunto sono messi in vendita otto lotti, fra i quali un'area edificabile in via Lebovio, la scuola di via Antonelli, alcuni appartamenti e locali in centro storico, dei locali commerciali a Colleparco e nel tutto per un ammontare di 1 milione e 200 mila euro. L'offerte scadono il 20 luglio alle ore 12, il 21 poi invece verranno aperte le buste. Quindi invitiamo tutti coloro che fossero interessati all'acquisto di questi beni a presentare le domande con le modalità che sono indicate nel bando pubblicato sul sito entro il 20 luglio alle ore 12.